Il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden vola in Turchia e si scusa con Recep Tayyip Erdogan per non essere arrivato prima. Nel giorno in cui i carri armati di Ankara entrano in Siria, il presidente turco lancia un messaggio a Washington. Consegnateci Gulen e nel frattempo impeditegli di gestire la sua organizzazione. I nostri esperti sono arrivati qui ad Ankara per incontrare i responsabili turchi, per lavorare a stretto contatto con loro, per valutare e raccogliere materiale sulla richiesta turca di estradare Gulen. La giustizia statunitense sta riesaminando le prove legate alla richiesta di estradizione, aggiunge la Casa Bianca. Erdogan ha un altro punto da mettere in chiaro con gli Stati Uniti. I combattenti kurdi in Siria, loro alleati, sono dei terroristi per Ankara. Che sia l'Isile, il PKK, o l'IPG, o al-Nusdra o al-Shabaab, restano, dal nostro punto di vista, tutte organizzazioni terroriste. Sono tutti terroristi. Non ci sono organizzazioni terroriste buone o cattive. Non possiamo fare distinzioni fra organizzazioni terroriste buone o cattive. Tutti terroristi sono cattivi. Il presidente turco ha ottenuto un'importante concessione da Biden. Gli Stati Uniti hanno chiesto alle forze kurde impegnate in Siria di non spingersi a ovest del fiume Ofrate e quindi verso il confine turco.